Inizia il boschetto che è la prima zona di lavoro, sono dei percorsi di slalom fra gli alberi camminando. Qual è il concetto? Che noi dobbiamo camminare fra gli alberi, spegniamo il sistema cognitivo, il pensiero su contare e liberiamo il proprio scettivo che funziona da solo in automatico su concentrarsi sul nostro equilibrio. Le applicazioni possono essere tante, non ho ancora lavorato specificamente sui soccorritori, però sicuramente riaccendere l'equilibrio, la capacità posturale in persone che fanno mestieri delicati, fra cui i soccorritori, è fondamentale. Questo qui è veramente trasversale, perché va dagli adolescenti che stanno strutturando il proprio cervello senza più dargli quegli stimoli di cui invece ha bisogno, agli anziani, che devono evitare una qualità della vita migliore, se possibile, senza cadere, a tutta la fascia media che la sedentarietà costringe a situazioni che non rispecchiano il benessere della persona. Il test consiste in una misurazione della stabilità attraverso una strumentazione DELOS, attraverso un sensore che misura la nostra oscillazione, come poggiamo il piede, come spostiamo il nostro peso. Poi in base a questo nel percorso effettuiamo una serie di esercizi e di movimenti legati a quello che ci ha detto il test, che sono volti proprio a somministrare instabilità. Una instabilità controllata è quella che serve al nostro sistema di controllo, al nostro sistema nervoso, per riaccendersi. Quindi tutto quello che facciamo sotto sono dei percorsi misurati, controllati, matematici, che quantitativamente e qualitativamente ci danno un risultato. Quindi non solo percorsi a caso, ma sono percorsi studiati, c'è stato circa un anno di progettazione. L'esercizio consiste nel mettersi su un piede solo, a occhi aperti e poi occhi chiusi, e stare così per 20 secondi cercando di stare dritti. La macchina registrerà quello che tu fai e come metti il piede, come sposti il peso del corpo. Stop! Ok! Risultati! A occhi chiusi, 61.1 è abbastanza bassa, non è bassissima ma è bassa per la tua età e soprattutto c'è differenza, 32 di differenza tra questa e questa. Quindi uniamo la natura alla tecnologia innovativa. Qui inizia il boschetto, che è la prima zona di lavoro, sono dei percorsi di slalom fra gli alberi camminando. Qual è il concetto? Che noi dobbiamo camminare fra gli alberi guardando l'albero successivo, perché sono numerati, facendo una curva a destra e una a sinistra e contando a mente i passi che facciamo. Quindi impegniamo il sistema cognitivo, il pensiero su contare e liberiamo il proprio scettivo che funziona da solo in automatico su concentrarsi sul nostro equilibrio. Abbiamo delle vasche di proprio scettione, le chiamiamo, cioè dei contenitori di differenti superfici, sabbia, ghiaia rotonda, sassi rotondi e zolle di terra, dove noi camminiamo con le nostre scarpe a cinque dita molto sensibili ed è più che altro un divertimento, nel senso che ci riappropriamo di un contatto con superfici diverse, mettiamo i piedi, mettiamo le dita dentro, cioè ci godiamo la superficie come fossimo a piedi nudi ma protetti. Passiamo ore al telefonino o al computer, quindi il sistema di controllo che parte dal cervello profondo, del controllo dell'equilibrio, della proprio scettione, è abbastanza spento in tutti noi, anche nei giovani. Semplicemente se sto camminando nella penombra o guardando il telefono e metto male un piede, la vista non può intervenire, interviene l'altro sistema, ma che sarebbe anche più veloce e più efficiente, ma se spento non interviene, io mi procuro una distorsione, banalmente, per cui riaccendere il sistema automatico indipendente dalla vista è fondamentale per la prevenzione per tutti, anche da infortuni semplici. Grazie a tutti.